Dai, cominciamo. Sono le 21.32 e in qualità di Copernicane ci teniamo la puntualità. Allora, buonasera a Elaria Capua, che è la nostra ospite. Buonasera a chi ci segue in streaming e un saluto a chi ci dovesse seguire in differita. Questo incontro questa sera è per fare delle domande, farci spiegare delle cose Dai, Elaria Capua, che è una notissima virologa, professoressa e quindi esperta di virus, ci parla del coronavirus e ci suggeriva un titolo che conteneva la parola pandemia e conteneva la parola infodemia e preoccupazioni, perché non possiamo separare i fatti scientifici del coronavirus a quanto pare da quelli mediatici. Per cui, ecco, abbiamo raccolto delle domande, sono molte e l'Area Capua ci ha chiesto e ci sembra un grande suggerimento di poter parlare liberamente per dieci minuti del coronavirus in maniera totale dopo da presentare solo le domande rimaste, perché chiaramente abbiamo delle sovrapposizioni. Noi obbediamo, perché crediamo nella scienza e nell'autorità di chi le cose le sa, quindi adesso diamo la parola all'Area Capua, che intanto mi prometto solo di oltre il rispondo, ringraziamo per la disponibilità, perché ci parla dall'aeroporto di Tampa, se ho capito bene, quindi grazie, in una posizione scomoda e ringrazio anche Rino Malaponti che ci dà il sostegno tecnico, io sono Giulia Lucarelli da casa mia e questo è un mio onore potervi presentare l'Area Capua e una spiegazione sul coronavirus. Allora, buongiorno, qua sono le tre di pomeriggio e buonasera a voi. Tutto ok from Tampa? Non si vede neanche una mascherina, neanche a pagarla oro, cioè nel senso che non si vede neanche una persona con una mascherina. Questo è Tampa, quindi insomma neanche un aeroportino, neanche un posto dove girano pochi turisti. Vi posso anche dire che sono partita stamattina dall'università e ieri ho fatto un giro nel campus per vedere un po' quante mascherine vedevo, zero, cioè c'era una persona con una mascherina, ma anche quelle che si vedono di solito perché noi abbiamo parecchi studenti orientali, quindi ecco questo è solo per così contestualizzare. Allora, dunque, da dove cominciamo? Cominciamo dal fatto che i virus che infettano l'uomo, molti di questi arrivano dagli animali, anche quelli che non vi immaginereste mai, tipo il morbillo. Il morbillo deriva, penso, niente poco di meno che dal virus della peste bovina, che è un virus ovviamente dei bovini. Ma quando Homo sapiens ha addomesticato il bovino, si è avvicinato, diciamo, entrato in contatto più diretto con il bovino e ha cominciato a usare questo bovino per il latte e per la carne e questo virus che stava nel bovino e peraltro provocava una malattia molto grave, dai, 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 alla fine è infettato l'uomo e dopo tanti, tanti, tantissimissimissimissimi anni è diventato il virus del morbillo. Allora, quindi i virus si spostano da specie animali e ci sono addirittura tante malattie che voi conoscerete, per esempio tutte le donne che mi ascoltano sapranno cos'è la toxoplasmosi, mi auguro, se non lo sapete, andate a guardare, che è una malattia, una zoonosi che viene dagli animali anche se è particolarmente pericoloso per la donna incinta, ma questo non è un virus, ma è un altro tipo di parassita. Ma per esempio c'è la rabbia, la rabbia è ancora presente in tante parti del mondo, era presente in Europa, in Italia fino agli anni, secondo me anche fino agli anni Ottanta, poi ogni tanto c'è qualche nuova incursione, però la rabbia attraverso il cane rabido, insomma il carnivoro rabido, si trasmette da animale all'uomo e la rabbia è una malattia che uccide il 100% degli infetti. ricordatevi questo, ricordatevi questo dato, cioè se una persona viene morsicata da un animale infetto, sia esso babbuino, cane, tigre, perché poi la gente fa delle cose in crepibli strelli, cioè c'è gente che seppure un po' se ne va a cercare e non si fa il trattamento post contagio e si ammala, quella persona è morta. Ecco, ogni persona che comincia a mostrare i sintomi muore, questo vuol dire 100% degli individui. Allora, arriviamo al nostro coronavirus 2019, ma prima di fare questo vi racconto una storiellina che invece parla di ebola. Ebola è un'infezione molto grave con un elevato tasso di mortalità e è un'infezione che ha nel suo, cioè diciamo i progenitori virali del virus di ebola si trovano nei vivi strelli. Sapete, forse non lo sapete, ma c'è un focolaio attivo adesso di ebola e questo focolaio è poi un po' figlio del focolaio del 2014. Questo focolaio di ebola del 2014, pensate che storia, è venuto fuori perché in Guinea c'è stata una svolta neoliberalista e quindi hanno deforestato, cosa che non avevano fatto, non l'avevano fatto così tanto, e hanno piantato palme. Allora, che è successo? Che tutti gli animali della foresta, compresi i pipistrelli, si sono spostati nei palmeti. Perché? Perché nel palmetto, intanto, stai più tranquillo, non ci stanno i predatori, c'hai tu tanto da mangiare, c'hai le tue nicchie abitative di riproduzione, ma perché devi stare dentro la foresta? Infatti sono spostati i pipistrelli e poi gli operatori che stavano lavorando nella zona per raccogliere il frutto della palma, già che stavano sulla palma, tiravano giù il frutto della palma e tiravano giù pure il pipistrello e se lo spostavano a casa. Alla moglie, che le donne vincono sempre, diciamo, il turno vincente, alla moglie veniva chiesto di macellarlo, quindi sporcarsi col sangue. E così viene fatto tutt'oggi e il primo caso di Ebola 2014 è avvenuto perché la signora moglie quello che lavorava nel palmetto ha dovuto lavorare questo pipistrello che era infetto con il virus di Ebola e lei si è preso Ebola e da lì è partita. Quindi la nostra invasione dell'ecosistema provoca degli squilibri. Noi questo lo sappiamo e è da sempre che lo sappiamo. E adesso arriviamo a bomba al nuovo coronavirus che anch'esso ha una storia di squilibrio ma soprattutto ha una storia di squilibrio i due coronavirus precedenti. Cioè questo coronavirus 2019 è il terzo coronavirus in meno di vent'anni e è tantissimo. Cioè questi sono eventi molto rari il passaggio non quando la malattia tipo la rabbia si sa che infetta due ospiti ma quando la malattia è in una specie far fare il salto di specie quindi dal pipistrello arrivare all'uomo è un evento rarissimo. Però è ovvio che questi eventi rarissimi sono poi amplificati da una serie di fattori per esempio dalle megalopoli da abitudini alimentari diciamo per carità tutti devono rispettare le abitudini alimentari di tutti però certo in Cina si sa che si mangia tutto sia che abbia due gambe sia che abbia quattro gambe o che ne abbia di più. Quindi è ovvio che dentro questi mercati vengono portati tantissimi animali vivi e quindi i patogeni che naturalmente stanno in questi animali e che normalmente non danno fastidio all'uomo entrano in contatto con l'uomo si spezza un equilibrio e parte l'infezione. Allora le tre epidemie precedenti che cosa ci insegnano? C'è stata la SARS nel 2003 la SARS nel 2003 ha avuto la fortuna di scoppiare a Hong Kong cioè la fortuna per noi perché? Perché sempre attraverso il meccanismo pipistrello zibetto che è una specie di puzzola una specie di faina una cosa di queste che era l'animale dentro il mercato e uomo si è verificato dentro scusate mi suona il telefono potrebbe essere no adesso non posso zibetto uomo è stato entrato in un albergo e attraverso il sistema di aria condizionata dell'albergo ha infettato tutta una serie di ospiti dell'albergo che erano dei businessmen quindi stavano per partire e quindi con la SARS è stato molto più facile bloccare l'epidemia infatti chi si ricorda di quell'evento gli aerei che partirono da Hong Kong per andare in Canada c'erano le ambulanze a aspettarli perché nell'arco di tempo del volo intercontinentale già ci si era organizzati per prendere questi come tipo pararli e la differenza sostanziale è che Hong Kong specialmente in quegli anni lì era molto più libera e quindi fortuna ha voluto che la SARS ha infettato soltanto 9000 persone ne ha uccise circa 800 tra cui il il medico italiano Carlo Urbani che morì in Vietnam di SARS comunque e quindi cioè un virus completamente nuovo che infetta meno di 10.000 persone e ne uccide il 10% è un grande successo della sanità pubblica e quel virus adesso sembra essere estinto il secondo coronavirus che ha bussato alla nostra porte pensate un po' arrivava sempre da Vivistelli e passato attraverso idromedari e da idromedari alle persone infatti il coronavirus del Medio Oriente anche questo dà una forma respiratoria e anche questo questo è emerso nel 2012 siamo nel 2020 e ci abbiamo il terzo coronavirus allora di questo coronavirus che cosa sappiamo sappiamo che è un virus che arriva da pepistrello ma questo ci arrivate pure da soli l'ospite intermedio è stato detto di tutto da rana non so pesce serpente sarchiapone non si sa ancora qual è l'ospite intermedio io mi sentirei di escludere animali a sangue freddo ma insomma è rilevante cioè queste sono cose da virologi che proprio alle persone normali non gli devono interessare per niente quello invece che deve interessare alle persone normali è che questo virus dopo aver fatto il primo salto di specie quindi di essere passato da un animale che poteva essere pipistrello oppure un altro diciamo altro ospite è passato all'uomo da questo uomo numero uno c'è stato un primo diciamo giro di amplificazione dell'infezione e poi mano a mano che il virus passa da uomo a uomo a uomo a uomo a uomo a uomo a uomo è come uno che ha 37 e mezzo che vuole mettere il piede dentro una scarpa 37 alla fine ce la metti e dai dai ce la metti e quando ce l'hai messa poi cammini e corri e questo è esattamente quello che fa il virus cioè lui ha un recettore 37 e mezzo metti che va bene per pipistrello il recettore dell'uomo è diverso quindi non gli c'entra tanto bene però una volta che è entrato poi comincia a galoppare e questo per esempio è esattamente quello che apro e chiudo parentesi è mancato all'influenza aviaria perché l'influenza aviaria non è mai riuscita a mettersi vedi che l'influenza aviaria c'era 39 e dentro il 37 c'entrava proprio 40 di recettore per mantenere l'esempio quindi questo virus è un virus che è caratterizzato da una trasmissibilità adesso molto sostenuta allora parliamo un po' di dati c'è stata tutta questa polemica se i cinesi hanno detto la verità sì no allora dunque punto numero uno cercate di capire che abbiamo a che fare con un virus nuovo quindi un virus nuovo non è facile da diagnosticare specialmente se tu non sai che è un virus nuovo ma se a te ti arrivano un gruppo di pazienti calcolate che in Cina il servizio sanitario non c'è calcolate che in Cina si cura con la medicina tradizionale cinese calcolate che c'è una cultura completamente diversa cioè non si possono fare paragoni però arriva un gruppetto di dieci persone che hanno la tosse il raffreddore a metà dicembre ma voglio dire pure se questi fossero andati al medico li avrebbero rimandati a casa perché cioè ci stava molto più l'influenza che il nuovo coronavirus raro che viene fuori una volta ogni ogni dieci anni quindi diciamo che forse un po' di tempo si è perso lì ma io sfido chiunque a non perdere quel tempo lì poi quando hanno capito che in realtà non era influenza eccetera eccetera allora hanno ricoverato i pazienti si sono messi a fare gli esami hanno capito che era un virus nuovo e per fare questo ci vuole un'altra settimana nel frattempo però cadeva il capodanno lunare cinese e quindi tanti cittadini si sono spostati da dove vivono sono andati a trovare le famiglie perché è l'unica vacanza che hanno i cinesi quindi praticamente quando sono state messe in atto le misure di quarantena è verosimile che una buona parte di persone già infette avevano lasciato Wuhan infatti se vedete la mappa della Cina ci sono focolai ovunque allora rischio dunque allora vorrei allora focalizzare alcuni punti su se i cinesi dicono la verità oppure no io credo che i cinesi abbiano le autorità cinesi abbiano risposto in maniera esemplare quando hanno capito la gravità del problema posso dire senza vergogna che è un problema difficile da capire cioè un problema non è una cosa immediata cioè queste sono emergenze che però appunto perché sono del tutto impreviste si fa fatica a a capire bene che cosa sta succedendo poi ci sono delle voci che girano che dicono che ci sono insomma tanti cinesi che sono morti eccetera eccetera allora io sinceramente non lo so però credo che se ci fossero centinaia centinaia di persone morte qualche diciamo segnale arriverebbe cioè quanto si può nascondere no come si può nascondere tutto ma io credo che perché perché poi di fronte alla morte non ha neanche più importante la tua importanza la tua di vita no e con diciamo i metodi di comunicazione che ci abbiamo oggi io credo che prima o poi verrebbe fuori però non lo so questo Stefano Quintarelli può rispondere molto meglio di me a questa domanda e dunque vaccino il vaccino ci vorrà sei mesi un anno sei mesi per svilupparlo fare le diciamo le prove di laboratorio metterlo a punto e poi bisognerà verificare se funziona e poi bisognerà testarlo quindi insomma e poi e poi produrlo in grandi quantità e poi distribuirlo calcolate che per per chi si ricorda l'influenza del 2009 la cosiddetta pandemia del 2009 H1N1 detta suina i vaccini e quello era un virus che cioè per la vaccino dell'influenza c'era una tecnologia che è ben avanzata solida robusta eccetera eccetera ci hanno messo 4-5 mesi cioè questi sono i tempi quindi ecco terapia con le malattie virali insomma si fa un po' fatica però vorrei allora rassicurarvi nel senso che i coronavirus nella stragrande maggioranza dei casi in tutti gli animali compreso l'uomo danno delle forme respiratorie lievi o delle diarree nell'uomo un quarto dei raffreddori sono causati da coronavirus non esiste in natura diciamo coronavirus che danno delle infezioni respiratorie gravissime gravi né nel pollo né nel gatto né nel cane nel maiale quindi quindi io credo che dobbiamo mettere da parte gli scenari apocalittici che diciamo sono legati ad altri tempi e forse a un po' troppi effetti speciali e dobbiamo invece ragionare con un approccio nuovo perché queste cose continueranno a succedere il danno più grande che faranno insomma se i dati sulla mortalità rimangono questi sarà il danno economico abbiamo già bruciato non so quanti miliardi che io ogni volta che sento dire la borsa ha bruciato 100 miliardi ha bruciato ma anche guardate se ne brucia uno io ogni volta penso penso se invece di bruciarlo l'avessero devoluto alla ricerca tutte le volte penso quindi adesso sai sai che quanti miliardi ci prendevamo noi se e quindi e costerà poi diciamo se il contagio continua a essere così rapido il rischio che si corre è che si blocchino i servizi primari quindi cioè se si ammala il 20% del personale delle ferrovie 20% del personale degli aeroporti degli ospedali i servizi si fermano perché cioè non è che gli ospedali vivono col 20% di personale in più quindi poi ci sarà un ingorgo degli ospedali e quindi io ho molta più paura di questo e ho paura anche e questa forse è la paura più grossa visto che ci sono passata ho paura della perdita di credibilità delle istituzioni perché questa è l'ultima cosa è la cosa che proprio non ci possiamo permettere insomma non ve lo devo dire io nei momenti di emergenza bisogna obbedire e fare quello che dicono le autorità non c'è né tempo né spazio per l'improvvisazione e per diciamo il singolo allora due parole sui numeri allora si parla di decine di migliaia forse l'ultimo numero che ho sentito 200.000 io ho già qualche giorno che dico che forse siamo anche un po' più avanti siamo anche oltre il milione di infetti questo diciamo cambia completamente lo scenario per quello che riguarda la mortalità perché la mortalità che a oggi è riportata a essere intorno al 2% se gli infetti sono 20.000 400 infetti adesso non mi ricordo quant'è il 2% se gli infetti sono un milione 400 morti non sono nulla quindi sono dati in evoluzione di certo non sentiamo parlare di diciamo centinaia centinaia di morti certo questa malattia farà dei morti anche perché ci sono persone in Cina che sono non hanno diciamo servizio sanitario ci sono persone anziane ci sono persone debilitate ci sono persone affamate ci sono persone molto povere e quindi è ovvio che questa malattia in un contesto gigantesco come quello farà dei danni e poi farà dei danni all'economia nazionale cinese a tutte le altre economie perché adesso mi sembra di capire ma fra un po' hanno chiuso anche i voli Lufthansa e i voli anche un'altra British forse quindi questi sono dei terremoti diciamo che bruciano miliardi e miliardi ecco e quindi qui arrivo al punto di conclusione il punto di conclusione di questi dieci minuti che in realtà mezz'ora è che oggi bisognerebbe secondo me ripensare la salute e così come nel corso dei secoli siamo passati da credere che la cosa più importante era la salute dello spirito poi dopo spetta che forse bene anche che il corpo sia in salute e poi con molto 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 ritardo siamo arrivati a riconoscere le malattie mentali come parte della nostra salute io credo che la salute va interpretata oggi con un concetto più ampio che guarda un po' il concetto che ci avevano illustrato gli antichi cioè che tutto è interconnesso allora così come i quattro elementi aria acqua terra e fuoco rappresentavano i motori e diciamo le energie che facevano girare il mondo e anche la nostra salute adesso senza arrivare a quegli estremi ma secondo me bisogna ragionare in quella direzione cioè noi siamo la nostra salute è assolutamente dipendente dall'acqua dal colera agli tsunami alle alluvioni alle zanzare è assolutamente e ai pesci che mangiamo la nostra salute è assolutamente dipendente dall'aria basta che si sente quello che i numeri che si sentono sull'inquinamento in questi giorni la nostra vita è dipendente dal fuoco perché è dipendente dal sole ma soffre anche dell'eccessivo calore e dei danni che il sole può fare e che mi avanza la terra la nostra vita è dipendente dalla terra perché sulla terra ci stiamo noi e ci stanno gli animali e le piante di cui ci nutriamo quindi io sto facendo una pubblicità pazzesca al mio nuovo libro assolutamente imperdibile che si chiama salute circolare e che però credo che a una comunità come la vostra potrebbe interessare è un libro che vuole raccontare come appunto bisogna riscoprire questa visione antica se volete e attraverso gli strumenti digitali big data e l'intelligenza artificiale reinventarci una salute che sia più consapevole anche degli altri esseri viventi sulla terra quindi la nostra salute fa parte di un sistema salute vi faccio un esempio facile facile non possiamo continuare a cercare di ammazzare le zanzare per zika e uccidere le api cioè non è più possibile cioè ci sono dei percorsi che sono esausti e non possiamo più continuare a utilizzare gli antibiotici così come li abbiamo utilizzati fino adesso non possiamo continuare a scaricare i farmaci cioè e non possiamo più o meglio se noi continuiamo scusate qua mi riaggancio al coronavirus cinese se noi continuiamo a invadere determinati ambienti e a diciamo creare delle interconnessioni innaturali perché grandi concentrazioni di persone non dovrebbero stare dove stanno grandi concentrazioni di animali selvatici è ovvio che questo tipo di problemi dovremmo farci conti molto più spesso e con questo bevo un po' d'acqua veramente dovrei anche chiamare mio marito che mi sta cercando speriamo che vi sia successo niente ok intanto grazie mille l'aria la spiegazione è molto molto articolata molto interessante allora anche per rispetto ai tuoi tempi e al tuo marito quindi evidentemente io ho segnato come risposte alcune domande mi piacerebbe portene comunque un paio quantomeno quelle più più applaudite da chi ha partecipato alla scrittura di queste domande perché evidentemente sono quelle considerate più interessanti quindi hai toccato tantissimi punti per cui te ne faccio una che è pertinente come potrebbe essere qualunque altra ma la nostra più ovvero la domanda è se il virus dovesse colpire un'azione ad alta densità demografica e basso livello sanitario e lì fa l'esempio di Nigeria e Indonesia quali effetti sarebbero da prevedere? Ma io che Tedros il direttore dell'OMS che non chiamo per nome ma c'è un cognome così difficile e lungo che mi annoiereste Tedros Dr Tedros ha detto proprio questo cioè lui ha detto il problema è quando visto i rapporti commerciali e i flussi di movimenti dalla Cina quando questo virus arriverà in Africa sarà un problema quindi la mia non voglio dire preoccupazione io direi il mio orientamento è che questo virus diventerà endemico cioè farà il giro del mondo piano piano ci metterà bisogna vedere come funzionano le misure di contenimento dalla Cina ma comunque cioè non è che voglio dire per quanto tempo si possono bloccare i voli no? Per quanto tempo si può fare una cosa del genere quindi io credo che l'infezione insomma si propagerà e arriverà pure in Africa quindi non è tanto plausibile lo scenario come la SARS che è stato intercettato troppo tardi troppo tardi ok quindi intanto grazie quindi attacco subito questa domanda che in futuro con che frequenza ci possiamo aspettare e la persona che l'ha scritto cita proprio i virus come SARS e MERS o come questo coronavirus allora i coronavirus ci fanno di qua e di là cioè coronavirus del pollo va nel faggiano coronavirus del cane va nel gatto insomma c'è un po' di però certo vivistrello uomo non ci dovrebbe stare capito quindi tanto più noi ricreiamo degli ambienti innaturali nel quale avvengono dei contatti che non ci dovrebbero essere tanto più il rischio sarà maggiore sinceramente che ce ne siano stati tre in meno di vent'anni non è un buon segnale ecco ok e allora una domanda più allora di casa abbiamo avuto due esempi diciamo di ricezione in Italia cioè la ricezione un po' caotica un po' un po' faticata e poi la ricezione istituzionale che insomma ha isolato chi si è rivelato infetto i due turisti che in cui c'è stata anche la vicenda diciamo dello Spallanzani che ha isolato questo virus cosa che per noi profani sembrava una cosa bella importante e quindi diciamo l'Italia come si è comportata in questo scenario io però non ho seguito devo dire non ho seguito tanto bene io lo Spallanzani lo conosco da anni conosco molto bene Beppe Ippolito conosco molto bene Maria Rosario Capobianchi quindi non avevo dubbi cioè noi lo dico anche al maresciallo che sta ascoltando ascoltando questa conversazione il mio laboratorio ex dove lavoravo a Padova e il laboratorio del professore Ippolito e la dottoressa Capobianchi ci siamo scambiati un sacco di virus perché lavoravamo insieme quindi io non avevo nessun dubbio che loro sarebbero riusciti insomma ma hanno fatto cose molto più eroiche cioè loro si sono presi un caso di ebola voglio dire ai tempi quindi sono contenta che siano stati riconosciuti poi il resto no ho visto un sacco di polemiche così strumentali ecco la parola giusta quindi sì io non mi voglio mettere in me cioè non lo so la reazione istituzionale è sembrata corretta ecco sì 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 perfetto allora provo a vedere se c'è qualcosa che allora io nel frattempo però vi chiedo di a tutti quelli che ascoltano e che ascolteranno di andare sul sito del mio centro o sul mio sito personale e di guardare Beautiful Science che è cioè è un un progetto che abbiamo sviluppato al mio centro che ha coinvolto Andrea Bocelli e Giorgia e noi abbiamo chiesto a loro di poter usare la canzone Vivo per lei che è una canzone di ispirazione alla musa della musica per promuovere la bellezza della scienza e soprattutto promuovere la figura degli scienziati perché gli scienziati sono delle persone appassionate sono delle persone determinate sono delle persone che amano quello che fanno e non sono dei banditi o dei cretini o dei ruba stipendi oppure dei mezzi svalvolati allora questo è stato nel 2019 l'abbiamo lanciato è stato l'anno di Leonardo il genio dell'interdisciplinarità il genio italico eccetera eccetera allora noi dobbiamo nell'anno di Leonardo e io questo l'ho preso come impegno personale perché vi garantisco che Andrea e Veronica Bocelli sono stati disponibilissimi però fare una cosa del genere non è una cosa facile questo ve lo garantisco e vorremmo fare un milione di views in un anno come inno alla scienza che parte proprio dall'Italia e se mi date una mano mi fate una cortesia adesso sul chat beautiful science vi metto il hashtag e poi magari Giulia vi mette il link insomma in qualche modo ecco no 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 ci impegniamo a dare di scordate se c'è qualcuno che ha i figli no perché poi c'è un altro problema che i ragazzini che vogliono fare science vengono pure un po' trattati con spocchia capito perché tipo ah sì ma che vuoi fare ma te vuoi fare lo sfigato a studiare fisica invece no anche voi che mi state ascoltando se ci sono degli insegnanti se ci sono mogli di insegnanti mogli di insegnanti fratelli di insegnanti gente con tanti figli fatevi girare nelle scuole bisogna tirare fuori la passione che i ragazzini hanno per la scienza perché se l'Italia perde anche questo lotteremo nuovi talenti per quanto è nelle nostre possibilità allora Elaria visto che appunto avrai i tuoi impegni ed è giusto secondo me mantenere la concentrazione sulle cose importanti che hai già detto e ti faccio un'ultima domanda che è un po' un sunto di alcune cose che ho letto che è quella un po' più diciamo intima nel senso quella un po' più per le paure dei singoli no ma quindi adesso da persona appunto esperta nel campo è il caso non è il caso di fare viaggi nelle zone vicine è il caso non è il caso di non so di mangiare pipistrali non è mai il caso questo l'abbiamo capito però è il caso di per esempio farsi che ne so da quest'anno farsi sempre il vaccino per l'influenza oppure questo mi sembra un ottimo assist e io sto per schiacciare Chuck perché bisogna vaccinarsi per l'influenza per tre motivi primo motivo anche a proposito di coronavirus perché bisogna vaccinarsi per l'influenza perché prima di tutto se ti vaccini per l'influenza è meno probabile che sviluppi l'influenza quindi se non sviluppi l'influenza non confondi il medico perché se tu dici scusi ma lei c'ha l'influenza ma io sono vaccinato allora pensa forse c'è il coronavirus invece se tu vai lì col moccolo e dici ma scusi ma lei è vaccinato no e allora lei si è preso l'influenza invece magari c'è il coronavirus quindi prima di tutto per questo secondo poi perché la coinfezione fra coronavirus e influenza è molto più grave che l'infezione con uno solo due spedge che one quindi ti viene di sicuro la forma grave se ti riprendi tutti e due insieme e terzo e terzo per non ingorgare le strutture ospedaliere perché ogni anno vengono ricoverate non so quante mila persone per l'influenza che si potrebbe anche evitare cioè bisogna difendere quello che sono i servizi essenziali cioè bisogna veramente fare una operazione di responsabilità come stanno facendo i cinesi che si sono chiusi dentro casa io ho una studentessa cinese che viene da quelle zone e lei mi dice che molti dei dei suoi parenti che stanno in giro per il mondo molti essi sono auto quarantena messi in auto quarantena e allora io ho una figlia di 15 anni che non sta per andare in Cina ma se mi avesse chiesto mamma posso andare in Cina lei avrei detto no ma perché ma perché perché se succede un casino rimani là cioè di tutti i posti dove andrei andare adesso in Cina ecco quindi in questo momento se uno deve andare per diletto anche no se uno deve andare per lavoro va attrezzato cioè io sono in un aeroporto e quindi e vado verso la Cina vado quella direzione quindi non non esageriamo usiamo il cervello e ricordiamoci che ognuno di noi cioè che questo è un problema di salute pubblica non un problema di salute del sin e quindi la salute pubblica si ottiene soltanto se tutti convergono verso lo stesso obiettivo basta uno che fanno una cavolata e che saltano salta il lavoro che hanno fatto migliaia e migliaia di persone ok quindi con questo appello alla responsabilità collettiva che cogliamo in toto e Ilaria se ci vuoi dire ancora qualcosa noi appunto abbiamo registrato intanto Beautiful Science e convincere i giovani a studiare scienze e vaccinarci questo almeno già lo facevo e lavarci le mani come dice l'OMS e informarci correttamente ecco informatevi correttamente perché di fake news ne gireranno veramente e guardate si fa presto perché c'è il Trust Project adesso non mi ricordo come si chiama ma ci sono alcuni giornali che fanno parte di questi che insomma hanno le notizie certificate c'era una cosa che volevo aggiungere che sul sito del mio centro esiste un seminario che ho fatto per l'università perché poi l'abbiamo trasmesso tramite Zoom quindi cioè era in Zoom e adesso c'è la registrazione quindi se qualcuno fosse diciamo è di una settimana fa però se qualcuno fosse interessato ad alcuni aspetti che magari non ho toccato perché insomma qua o magari non avesse capito qualcosa sul sito del One Health Center dell'università della Florida lo trovate perfetto allora Ilaria guarda io non so come ringraziarti veramente speriamo di risentirci per non so una spiegazione magari più adesso mi prendo un merito però con voi posso prendermi un merito con voi adesso me lo prendo perché io vorrei la prossima volta parlare con voi di questo e adesso vi metto poi dopo vi attacco una cosa qua sulla chat allora perché per me questa epidemia è un'epidemia che veramente lascerà un segno perché tutti stanno condividendo i dati allora nel 2006 io mi misi contro il sistema dicendo che i dati relativi ai genomi dei virus prepandemici dovevano essere condivisi e insomma questa questa diciamo il gran rifiuto fatto il gran rifiuto è stato ripreso dalla stampa internazionale insomma anche molto criticato io però ho continuato dritta per la mia strada ho sempre fatto advocacy per la trasparenza qualcuno di voi saprà la triste vicenda che mi ha riguardata e praticamente io sono stata accusata di essere una trafficante di virus perché il mio telefono era sotto controllo in quel periodo in cui io dicevo certo che ti mando il virus perché i miei virus sono stati condivisi con tutto il mondo adesso dopo 14 anni esattamente perché era febbraio del 2006 l'OMS riconosce che questa è la vera chiave di volta e quindi a me piacerebbe proprio adesso attacco il file qua mi piacerebbe proprio che per una volta l'Italia si appendesse questa spilletta sul petto perché è una cosa che è stata fatta in Italia è partita dall'Italia e probabilmente in tanti altri posti io non ah no ma così non riesco a attaccarvela aspettate ho sbagliato vedete qualcosa no non vedo ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato vabbè ve lo attacco sì 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 ve lo attacco nella chat quello volevo fare e non sono riuscita ecco a me piacerebbe proprio che l'Italia si prendesse questo questo lustrino la sanità pubblica italiana ecco molto bello e molto generoso da parte tua io ti confesso che chiaramente prima di questa intervista ho un po' guardato la tua storia su Wikipedia tra l'altro probabilmente lo sai meglio di noi ma recentemente sta girando un articolo di Mattia Feltri che ricostruisce tutta la vicenda veramente vergognosa di cui si è stata oggetto quindi ecco il protocollo di IVA insomma sono tutte cose che ho letto in questi giorni è bello che tu ne voglia fare una bandiera dell'Italia insomma da italiani dobbiamo essere gradi perché insomma l'Italia l'ha dato anche tolto ed è un po' vabbè però l'Italia guardate l'Italia a me mi ha dato veramente tanto mi ha tolto allora sono incappata in un malfunzionamento e però io trovo infatti io perché sono qui adesso all'aeroporto di Tampa che non rispondo a mio marito perché io credo e voglio esserci per dare informazioni corrette agli italiani perché se no girano delle cose pazzesche quindi io sono molto presente anche per questo perché questo io ho lavorato su questo tutta la vita e quindi so che spaventa e adesso grazie alla trasparenza i dati spaventerà un po' di meno perché tutti possono fare il vaccino c'è la sequenza depositata splendido va bene allora vi saluto vi abbraccio e vi mando questo video non so come fare ma troveremo un modo ti mando io dei riferimenti un'email così ce li puoi girare poi lo pubblichiamo noi sui social insomma gli daremo l'opportuna visibilità tutto quello che possiamo grazie è stato un piacere un onore e buon viaggio e grazie ancora di tutto ciao ciao a tutti